E' stato ieri al mare e ho visto tutto il mare della Litorania praticamente, tutto il percorso. Io sono un amante della zona del laghetto per cui andiamo in genere lì perché di solito lì l'acqua è un po' più pulita, ma ieri era nera dappertutto. Primo weekend estivo, stabilimenti aperti e spiagge affollate a Torre del Greco. Nota dolente, sembrerebbe al momento il mare, per molti torbido e sporco, al punto da scegliere di non tuffarsi. Dall'inizio della Litorania fino al laghetto, immagino, anche dopo fino al cimitero, fino al porto, immagino, proprio impossibile. Quando ero piccolo l'acqua era cristallina e da tutta la campagna venivano a fare il bagno a Torre del Greco. Io ho una certa età, prima di morire vorrei rivedere di nuovo l'acqua come era quando ero piccolo, che andavo giù alla Litorania e che era un'acqua stupenda. Venivano da tutte le parti della campagna a farsi bagno a Torre del Greco. Per i torresi sembra un ricordo lontano. Le condizioni oggi, dicono, sono assai deludenti. Confidiamo in tempi brevi, con la nuova amministrazione, in un'inversione di tendenza. Non ho elementi per poter giudicare, né per poter dire a cosa sia dovuto. Quello che si dice in giro è che comunque ci sono degli scarichi al mare e che sono ancora aperti. E questi famosi collettori che dovrebbero portare le acque reflue alla foce del Sarno, comunque credo che non siano state ancora attaccate. Immagino. Penso che questo sindaco che adesso è salito sta facendo per il momento delle ottime cose. Infatti anche via Cavallo ha tolto tutte le erbacce, quindi penso che anche per il mare si potrebbe fare molto di più.